Salve, mi chiamo Gianfranco Marini e in questo video tutorial vi illustrerò le caratteristiche di ZIF un'applicazione web free, quindi di uso libero, che è uno strumento molto efficace per la cura dei contenuti, la content curation il problema cioè di, di fronte all'information overload, al sovraccarico di informazioni cui internet ci sottopone ogni giorno cercare di organizzare, classificare le risorse, i contenuti più interessanti che troviamo e offrirgli agli altri utenti della rete bene, dopo essere mi recato nella pagina principale, mi potrò collegare anche con i miei vari social account clicco su login, digito la password e mi collego a questo punto posso iniziare il mio lavoro prima però di farlo, illustrerò, per meglio comprendere come funziona ZIF, il tipo di logica che utilizza una pagina che ho già creato, intitolata Educational Web Apps cioè applicazioni web dedicate o utilizzabili in ambito educativo come si vede la struttura della pagina è la seguente, qui abbiamo il titolo qui abbiamo una breve descrizione dell'argomento di cui ci si occupa un'immagine che è un po' la copertina qui una mia immagine, i motivi per cui a me interessa questo argomento i miei vari social network i dati della pagina visualizzazioni, click links categorizzati, blocchi, eccetera e qui ringraziamenti, condivisioni e così via vediamo un po' come funziona prima di tutto due visualizzazioni possibili questa estesa e questa condensata questi sono tutti i blocchi questi bianchi col titolo ritorniamo alla visualizzazione normale ciascun blocco raccoglie diversi link questi sono i link se mi soffermo sul titolo del blocco comparirà una breve descrizione degli argomenti cioè dei link che sono raccolti in questo blocco questo quindi è lo scopo di ZIF prendere un argomento generale suddividerlo in modo ordinato appunto categorizzarlo in vari blocchi e all'interno di ciascun blocco inserire link in questo caso applicazioni web educative se io mi soffermo sui link per esempio questo Canva comparirà una breve descrizione che io posso modificare o che viene automaticamente presa dal sito web di quella pagina dell'applicazione quindi la categorizzazione consiste nel suddividere l'argomento generale in argomenti in sotto argomenti per esempio in questo caso abbiamo applicazioni per annotare per creare infografiche per lo screencasting per creare sondaggi questionari e così via questo ha che scopo? ha lo scopo appunto di dare un ordine al caos di dati del web e fornire ai nostri utenti una più facile scelta dell'applicazione che più si conforma a quelle che sono le loro esigenze bene, adesso vediamo come si crea una pagina mi riporto sul menu che è qui in alto a destra e clicco su create page posso scegliere tra una pagina dedicata a un argomento o tema generale una pagina aziendale una pagina personale in ambito educativo ci occupiamo soprattutto di pagine tematiche e quindi può essere un tema disciplinare interdisciplinare e così via io qui scriverò poi il titolo nome dell'argomento qui mi dice che è già stato scelto lo chiamerò pippo1 allora e una volta accettato clicco sul pulsante crea la pagina questa è la mia pagina vuota e dovrò inserirvi tutti gli elementi prima di tutto gli elementi che descrivono la pagina quindi un'immagine che avrò preso da internet o che posso caricare dal mio computer prima l'ho presa da internet incollo questa immagine è un po' la copertina dicevo della mia pagina salvo ecco fatto qui sulla destra inserirò in forma di parole chiave o tags quelli che sono gli argomenti che voglio trattare a proposito di questo tema generale e qui inserirò invece il nome dell'autore il mio nome qui inserirò i motivi per cui mi interessa questa pagina il tipo di competenza che ho su questo argomento in modo che l'utente sia avvertito di ciò qui inserisco gli account dei miei social network e sono pronto ho già tre blocchi vuoti predisposti basta che clicchi sul segno più per creare il primo blocco anche qui dovrò effettuare una scelta in questo caso quasi sempre si tratta di link cioè di raccogliere e ordinare dei link quindi consideriamo questa scelta clicco sul link e si aprirà questa finestra qui è tutto molto semplice dovrò digitare un titolo relativamente a questo blocco informazioni su pippo la faccina diventa rossa perché il titolo è un po' troppo lungo ZIF predilige i titoli brevi e poi una descrizione dell'argomento che io darò solo in questo modo una volta terminato il mio lavoro di configurazione del blocco cliccherò su questo segno di spunta salva il titolo del blocco qui posso fare lo stesso lavoro su questo blocco questo lo chiamerò immagini di pippo e poi salvo cliccando su save salva il titolo del blocco ecco qui i miei due primi blocchi che sono vuoti ora devo riempirli come li riempirò ricordiamoci che lo scopo di ZIF è quello di offrire una raccolta ordinata di risorse presenti sul web classificate secondo un certo criterio in questo caso io per esempio posso incollare qui un link in questo riquadro clicco su segno più per aggiungere questa risorsa in questo caso una pagina internet presa da wikipedia mi si propongono vari titoli alternativi il titolo pippo mi va benissimo perché così segnala l'utente esattamente cosa può trovare qui posso naturalmente modificare cliccando sulla strumento di modifica ecco posso cancellare aggiungere personalizzare le informazioni che verranno visualizzate quando il puntatore si poserà sul titolo del link posso mettere pippo wikipedia per esempio come titolo e salvare ecco qua allo stesso modo posso aggiungere ulteriori link aggiungiamo un link all'altro blocco immagini di pippo selezione riquadro qui copio un link che ho trovato precedentemente segno di più troppo lungo questo titolo non mi va bene lo cambiamo la faccina è triste scriviamo pippo immagine qui una descrizione busto di pippo immagini qui ho sbagliato il titolo vabbè lo facciamo poi è salvo quando ho più di un titolo più di un link chiedo scusa nel mio blocco posso anche muoverli i link se poggio il mouse sull'icona posso fare questa operazione trascinare questo perché? perché quando ho 10 link 15 link proporrò anche una mia classifica dei link i primi saranno quelli che io reputo più interessanti e così il visitatore potrà avere anche questa ulteriore informazione bene rieccoci nella pagina di esempio per mostrare come la visualizzazione condensata dei blocchi serve per poterli spostare in modo da quando ho tanti blocchi dare ad essi un certo ordine e quindi consentire una più agevole visualizzazione ai visitatori qui posso anche indicare che i vari link all'interno del blocco dipendono dal ranking dal punteggio attribuito dal curatore o l'ordine semplicemente alfabetico o dipende dalla popolarità e io assegno un ranking mio sono ordinati così perché secondo me si va dal migliore al peggiore tra i siti che ho segnalato o i servizi che ho segnalato supponiamo di aver terminato il nostro lavoro di cura dei contenuti di aver raccolto i nostri link e vogliamo pubblicare la pagina questa non viene salvata automaticamente occorre richiedere una autorizzazione inviare una richiesta di pubblicazione questo per motivi prettamente tecnici cliccando qui viene inoltrata la nostra richiesta ci verrà risposto nel giro di pochi giorni via mail in questo caso non mi è stata data l'autorizzazione perché non ci sono 20 link che è il numero minimo di link perché la pagina possa essere pubblicata ma può essere negata anche per altri motivi per esempio la presenza di un blocco vuoto o altre questioni tecniche unicamente per questioni tecniche se non c'è nessun errore tecnico da correggere la pagina viene normalmente pubblicata e compare su internet ebbene questo è tutto almeno come sommaria introduzione grazie e buona cura dei contenuti a tutti grazie a tutti grazie a tutti